Sì, adesso, qui va fallo io, mi raccomando qui E poi, ad mezzo tutti i carrioti del canisario Bagadì Davano la riempia, di un gol in la frattaria più o meno MCS-RT ... ... Grazie a tutti Come intendo la risera dopo i primi Chi mi può non prendere in grande orbitals in più Ma è ma cosa che voglio Che lei togli una causa Che non si non ti è ing CLB la chianti che pensi che cerchi aperto la questione che l'abbiamo siamo verdade, siamo addoli la manisiertmente inc상을 230 attenzioni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti